Le stelle di Azus Un momento molto particolare in amore. Sarebbe il caso di far capire bene al partner quello che avete nella testa, ma soprattutto nel cuore. Gemelli, con la luna in bilancia la parola d'ordine deve essere disponibilità. Andando incontro alle esigenze del partner potrete vivere un'emozione davvero intensa. Cancro, in serata la luna diventa fantastica, sarete quindi molto più rilassati, disponibili nei confronti degli altri e in maniera particolare del partner. Leone, molto passionale questa luna, sarete un vulcano di idee ma anche di passione. L'amore è tornato a bussare alla porta del vostro cuore sotto forma di attrazione fisica. Vergine non è una giornata proprio straordinaria, del resto le battaglie che avete combattuto ultimamente vi stanno sfiancando. E anche in amore siete disillusi. Bilancia, venere sempre in una posizione fantastica, quindi non dovete faticare molto per organizzare una serata veramente emozionante. Con il vostro partner, scorpione, luna molto passionale che rende la giornata romantica e sentimentale come piace a voi. In amore avete ormai ritrovato un buon equilibrio e sapete cosa volete? Sagittario, sarà difficile farvi diventare improvvisamente romantici, ma in giornate come questa e soprattutto sotto questo cielo sarete capaci di slanci inaspettati. Capricorno, una bella luna in serata vi restituirà il buon umore. L'amore per voi negli ultimi giorni è spesso fonte di nervosismo e preoccupazione. Sul lavoro arrivano notizie. Acquario, c'è sempre un po' di trambusto nella coppia e anche in giornate di luna buona non riuscite ad essere completamente rilassati e disponibili nei confronti di chi amate. Pesci, con il passare delle ore ritroverete la vostra forma migliore e sarete pronti a vivere momenti molto intensi sul lavoro e in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus. Grazie a tutti.